Le Marche da Isola Felice a frontiera del contrabbando e settima regione in Italia quanto ad evasione fiscale. Il bilancio è stato tracciato dal comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Francesco Petraroli, nella festa per il 236esimo anniversario del corpo. Al top il contrabbando di sigarette con 90 tonnellate di merce sequestrata tra gennaio e maggio. Sul fronte dell'evasione fiscale sono 129 gli evasori totali individuati dalla Guardia di Finanza, con imposte sul reddito evase per 630 milioni. Accertate anche una frode e un'evasione internazionale da oltre un miliardo e mezzo di euro. Individuate 550 società cartieri attive nel settore elettronico. Per evadere l'IVA cedevano prodotti ad imprese di San Marino che a loro volta li rimettevano nel circuito anconetano attraverso società filtro che non versavano le imposte. Insomma, forte l'evasione, ma sottolineano le fiamme gialle, merito di attività più mirate. I numeri sono quelli, sono inconfutabili, però non voglio dire che le marche sono un popolo, i marchigiani, sia un popolo di evasori. Questo no. Riprendendo quello che ho detto prima, forse siamo stati bravi noi ad individuare due settori particolari perché adesso stiamo ponendo a base dei nostri controlli una attività di intelligence. Cioè noi prepariamo prima, non andiamo in giro colpendo e controllando così senza una ragione veduta. Nel corso della cerimonia è stato assegnato l'encomio solenne al maggiore Lorenzo Tizzani e ai marescialli capi Conte Arigliano per un'operazione contro il contrabbando di sigarette. Un altro encomio solenne al brigadiere Eros Vecchi l'ha puntato scelto Colella per aver salvato un aspirante suicida a Camerino.